Questo che sto per dirti è probabilmente il miglior consiglio che abbia mai ricevuto sugli investimenti. Qualche anno fa volevo iniziare ad investire in azioni. Da totale principiante ovviamente non sapevo dove mettere mani. Sì, ho iniziato a informarmi un po' qua e là, a investire qualcosina, ma ovviamente i risultati non furono dei migliori, anzi, persi i soldi. Ho iniziato allora a documentarmi sempre di più e a cercare dei consigli che effettivamente potessero aiutarmi nel mio percorso negli investimenti. E questo che sto per dirti è il migliore in assoluto in cui mi sia imbattuto. In mezzo alle mie ricerche ho trovato un miliardario. Un miliardario che è diventato miliardario proprio grazie agli investimenti. Un miliardario che ha risposto a quella che era la mia domanda, cioè come posso trovare le azioni giuste su cui investire. E la risposta che mi diede fu tanto semplice quanto completa. Quando vuoi acquistare azioni, muoviti come se stessi cercando una fidanzata. Io a quel punto dissi, no, aspetta, in che senso? Ragionandoci un po' sopra, in effetti col senno di poi, questo è veramente il miglior consiglio che abbia mai avuto nell'ambito degli investimenti. E in effetti, se ci pensi, ha perfettamente senso. Perché quando stai scegliendo un'azione da comprare, stai di fatto diventando socio di quell'azienda. Cioè si crea una partnership ed esattamente come una relazione, tu vuoi che questa partnership sia felice, duratura e di successo nel tempo. Ovviamente in questo video non posso prometterti il segreto per trovare la migliore azione. Semplicemente perché neanch'io lo so, non ho la sfera di cristallo. Come invece pare che abbiano tanti finti guru che trovi qua online. Tutti investi qui, fai lì, fai su, fai giù. Io non ho questa presunzione, non ho nessuna sfera di cristallo. Posso dirti che ci sono sicuramente delle azioni che se fatte potrebbero significamente aumentare le chance in tuo favore. Partiamo quindi subito. Prima di tutto bisogna capire che tipo di investitore sei. Stai cercando delle value stock o stai cercando delle grow stock? Cosa vuol dire? Stai cercando delle azioni già ben capitalizzate, già grosse. Un esempio di value stock può essere Apple o può essere Coca-Cola, JP Morgan. Quindi delle aziende già molto grosse che hanno una stabilità in più nel prezzo, quindi non hanno dei grossi pump o dump. Un prezzo quindi relativamente stabile e dei dividendi che pagano interessanti. Dall'altra parte invece abbiamo le grow stock. Quindi le azioni meno capitalizzate, da meno tempo sul mercato e che hanno una potenzialità di crescita molto più alta rispetto alle value stock. Quindi delle azioni su cui noi possiamo speculare con l'obiettivo di rivenderle poi a prezzi più alti. A seconda del tipo di investitore che sei ti muoverai in modo leggermente diverso. E poi c'è l'ultimo profilo che è quello misto. Personalmente sono per esempio un profilo misto, quindi mi piace avere in portafoglio sia delle value stock sia delle grow stock. Una buona scelta quindi, soprattutto per chi ha le prime armi, è quella di diversificare il proprio portafoglio. Indicativamente sarebbe meglio non avere più del 5% del proprio portafoglio di investimento investito su un'unica azione. E non più del 20% investito in un unico settore, come per esempio potrebbe essere il settore tech. L'ideale sarebbe avere azioni in almeno 5 settori differenti e avere in portafoglio almeno 25 titoli distribuiti su questi 5 settori. Questa è una regola di massima in ottica di diversificazione che puoi iniziare subito ad applicare. Ovviamente non è legge. Questo non significa che sia necessario avere più di 25 titoli o sia necessario diversificare in questo modo. Anzi, più si è esperti, più diventa possibile ridurre questa diversificazione e partire mirati su pochi business. Per esempio ci sono investitori come Ray Dalio che diversificano tantissimo con portafogli azionari con più di 300 azioni. Investitori come Warren Buffett che invece hanno 40-50 azioni principali. E investitori invece come Monish Pabrai che sono molto più speculativi e hanno portafogli da 4, 5, 10 azioni. Quindi come vedi a seconda dell'esperienza, a seconda del tuo profilo di rischio, di come ti muovi, ci sono diverse soluzioni. In linea generale comunque la cosa più semplice da fare per chi ha le prime armi è crearsi un portafoglio diversificato in più settori senza sovresporsi su un'azione piuttosto che un'altra, esattamente come abbiamo detto qua. Potresti per esempio anche utilizzare degli ETF per riuscire a diversificare meglio, quindi comprare qualche azione e poi utilizzare degli ETF per andare a colpire i panieri più grossi di azioni in più settori o in più mercati, in più paesi. Oppure potresti fare in modo che la liquidità che hai da parte ti generi interessi. Per esempio io utilizzo per investire Trade Republic, una piattaforma che mi permette di costruire piani d'accumulo a zero commissioni su praticamente tutte le azioni d'ETF che mi interessano e in più mi dà una percentuale di interesse sulla liquidità che parcheggio sulla piattaforma in attesa di essere utilizzata. Questo interesse va di pari passo con quelli che sono i tassi di interesse della BCE e attualmente nel momento in cui registro questo video si attesta al 3.75% annualizzato che comunque non è male. Questa può essere un'altra soluzione interessante per mettere comunque a rendita i tuoi fondi. Qua sotto ti lascio il link e un codice. Se utilizzi quel codice potrai ottenere una frazione di azione gratuita del valore di 10 euro. Potrai poi scegliere se tenere questa azione o venderla come più preferisci. Per usufruire di questo bonus ti basta entro 30 giorni dalla registrazione di effettuare un deposito da almeno 100 euro e acquistare due azioni di qualsiasi importo a partire da 2 euro. Fatto questo otterrai la tua azione gratuita. Qua sotto il codice. Partiamo a questo punto con il vivo del nostro video in cui vedremo esattamente come scegliere le azioni su cui investire. Step 1. Scegli la tua strategia. Una volta che hai compreso che tipo di investitore vuoi essere, è il momento di scegliere la tua strategia. Esattamente come quando cerchi di conquistare una ragazza o un ragazzo, devi avere in mente una strategia ben precisa. Hai intenzione di portarla o portarla a cena? Hai intenzione di regalare dei fiori? La strategia è la chiave. Quindi parti con il chiederti come approccerò il mercato in base ai risultati che voglio ottenere. Ci sono due strategie principali, due approcci principali al mercato. Uno è l'approccio di tipo tecnico e l'altro è l'approccio di tipo fondamentale. L'approccio tecnico si basa su quella che è appunto l'analisi tecnica. Ed è prevalentemente utilizzata per fare operazioni mirate, short term, quindi a breve termine, utilizzando prezzi, grafici, indicatori con l'obiettivo di identificare dei pattern che mi potrebbero permettere di prevedere il prossimo movimento. Uso la parola potrebbero perché ovviamente nessuno riesce a prevedere i mercati. E francamente penso che la maggior parte di questi operatori sul mercato non siano altro che giocatori d'azzardo di classe. Si utilizzano strategie, analisi, cose varie, ma pur sempre gioco d'azzardo fanno. È possibile avere successo tramite l'analisi tecnica? La risposta è sì, assolutamente sì, ma tieni conto che secondo le più recenti stime il 95% dei day trader perdono in realtà soldi anziché farne. Questa è una stima estremamente importante da tenere in considerazione. Passiamo a questo punto al secondo tipo di strategia, quella basata sull'analisi fondamentale. Inutile dirlo, io sono prevalentemente un analista fondamentale. L'analisi fondamentale è un po' più come essere un detective piuttosto che un giocatore d'azzardo. Elementare mio caro Watson. Infatti il nostro compito sarà spiare, guardare i report dell'azienda, capire come funziona, capire come sta andando, capire come è andata in passato. E da qui provare a capire come porterà avanti i giochi in futuro. Questo tipo di analisi ci permette di capire appunto come è andata da un punto di vista finanziario realmente l'azienda. Ricordiamoci che stiamo comprando delle attività e come tali avranno dei clienti, avranno dei costi, avranno dei ricavi. Tutta una serie di informazioni che tra poco vedremo insieme e che è necessario conoscere per comprendere quanto quell'attività è sana, come è cresciuta nel tempo e provare a capire se e in che misura possa crescere in futuro. Questo approccio potrebbe permetterti abbastanza velocemente di raccogliere un paniere di azioni da tenere in portafoglio che su orizzonti temporali di 8-10 anni potrebbero portarti veramente dei bei soldi in tasca. Ed è per questo che è uno degli approcci che preferisco in assoluto. E voglio sottolineare questo concetto perché se in questo video ti stavi aspettando soluzioni per diventare ricco in fretta o l'analisi super per trovare azioni nel 100% dei casi che faranno 100 per, 1000 per e tutte ste robe qui, sei nel posto sbagliato. Quindi stacca pure il video e cerca altro perché qui non troverai nulla del genere. Il mio obiettivo è salvare il tuo futuro finanziario. Non sono qui per aiutarti a fare qualche spiccio comprando qualche azione così a caso. E tieni sempre presente che in qualsiasi tipo di investimento i tuoi soldi potranno andare giù così come potranno andare su. Quindi è tua precisa responsabilità comprendere in che modo investire e su che cosa stai investendo. Bene ora se sei ancora qui con me commenta qua sotto ci sono. Così mi rendo effettivamente conto quante delle persone che hanno visto questo video sono effettivamente intenzionati a imparare come investire nel lungo termine, come ottenere profitti nel lungo termine e quindi investire in modo serio. Detto ciò passiamo al secondo step. Screma i profili. Esattamente come quando scegli una potenziale fidanzata o fidanzato, insomma una ragazza o un ragazzo con cui uscire, lo cercherai in mezzo ad altre persone. Quindi vedrai diverse ragazze, vedrai diversi ragazzi, dirai questo mi interessa, no quello non mi interessa. Quindi fai un'azione di scrematura. Magari lo scegli in base alle preferenze, magari lo scegli in base all'aspetto fisico, magari lo scegli in base al tono di voce. Ci sono mille motivi per cui sceglierlo, mille tipi di filtri, ma sappi che questo approccio funziona esattamente in modo identico anche nel mercato azionario. Per trovare l'azienda giusta ovviamente non passerai dal suo profilo Instagram a vedere chi è, ma passerai per il profilo aziendale, cioè il bilancio dell'azienda. Ciò che ci interessa vedere a noi è proprio per prima cosa il bilancio aziendale. Il bilancio aziendale infatti ci mostra una foto, un'istantanea dell'andamento economico dell'azienda in uno specifico intervallo di tempo dato, che può essere un anno, che può essere un mese, che può essere un quadrimestre, dipende poi quello che vuoi guardare. Generalmente io per esempio guardo di anno in anno. In particolare quello che possiamo vedere dal bilancio aziendale sono gli asset e quindi gli attivi dell'azienda e dall'altro lato i costi, quindi i passivi dell'azienda. Quindi dove entrano i soldi, da che cosa e dove escono i soldi e da che cosa. E per ultimo le equiti degli azionisti, quindi quanti soci ci sono. Non ti preoccupare se fin qui ti sembra tutto un pochino confusionario. Magari ti starei chiedendo ma come faccio a leggere un bilancio? Ora ne guarderemo uno insieme e ti mostrerò esattamente il processo che faccio quando vado ad analizzare dal punto di vista finanziario un'azienda. Per farlo useremo una piattaforma gratuita e di libero accesso a chiunque. È un sito web, si chiama Yahoo Finance. Se vai su Yahoo Finance hai tutte le informazioni che ti servono. In realtà una buona parte di queste informazioni le è anche già sull'applicazione di Trade Republic. Quindi già da Trade Republic, il posto su cui andremo a investire, puoi facilmente vedere determinate informazioni base, veloci, che ti fanno capire in breve come sta andando quell'azienda. Ovviamente noi vorremmo essere più specifici quindi ci supporteremo proprio con Yahoo Finance. A proposito se ancora non ti sei registrato a Trade Republic qua sotto ti lascio sia il link per registrarti che è un tutorial pratico di come funziona. Perché è in assoluto una delle piattaforme che preferisco per investire in azioni perché è comoda, perché ti paga dividendi e perché tu sei il proprietario delle azioni su cui investi. E in più ottieni interessi costantemente sui soldi che hai parcheggiati. Ricordati prima di partire con l'analisi che nessuna delle informazioni che ti sto esponendo qua sono da trattarsi come consigli finanziari. Io non sono un consulente finanziario. Quando investi il capitale è tuo ed è a rischio. Quindi sii consapevole e agisci di conseguenza. Ora torniamo alle azioni a cui siamo interessati. Apriamo il nostro Yahoo Finance. Sii presenta in questo modo. A noi basterà andare a cliccare qua sopra e mettiamo per esempio Apple. Eccolo qua. Una volta aperto Apple ci mostrerà ovviamente l'andamento, il grafico e tutto. Noi dovremo andare a cliccare qui dati finanziari. Quindi clicchiamo dati finanziari e ci si apre questa roba qui. Lo so che sembra tutto un casino. Non ti preoccupare perché in realtà è molto più semplice di quello che si possa credere. Vado a risistemare un pochino così da avere un'idea. La prima cosa che si vede appena apriamo è il conto economico. In realtà noi vogliamo partire dal bilancio. Quindi clicchiamo il bilancio ed ecco qua con tanti numeri e tante scritte che non si capisce nulla. Io ora ti vado a chiudere tutte queste cose qua in modo da avere un'idea. Il bilancio si riassume in attività e quindi asset e passività. Quindi attività ciò che ci genera entrate. Passività ciò che ci genera uscite. Molto molto semplice. Ciò che interessa a noi di tutta questa roba qui è nella sezione attività l'importo vicino attività correnti. Le attività correnti sono sostanzialmente quegli asset attivi che possono essere monetizzati entro 12 mesi. Possono darmi immediata liquidità appunto nell'arco di breve termine. Abbiamo poi anche come puoi vedere qui le attività fisse. Le attività fisse sono delle attività che difficilmente puoi toccare. Come per esempio impianti, fabbriche e così via. Di conseguenza in questo momento noi interessano meno perché vogliamo capire quanta liquidità immediata può avere l'azienda. Oltre comunque impianti e cose varie dentro le attività fisse abbiamo anche tutte quelle che sono le proprietà intellettuali, formule o cose particolari, brevetti e così via. La seconda voce che ci interessa sarà quella delle passività. In particolare andremo a vedere che cosa? Andremo a vedere nelle passività le passività correnti. Quindi ancora una volta questi qua che cosa sono? Se quelli di prima erano gli attivi che possono essere nell'arco di 12 mesi monetizzati, nel caso delle passività sono i debiti che vanno ripagati entro un ciclo aziendale o comunque entro 12 mesi. E quindi costi, prestiti e così via da liquidare entro 12 mesi. A cosa ci servono questi specchietti qua? Quindi gli attivi correnti e i passivi correnti. Ci servono per capire se l'azienda riesce ad essere solvente in un determinato arco temporale. Come farlo? Con un calcolo semplicissimo. Prendiamo il totale degli attivi correnti. Prendiamo per esempio per il nostro calcolo l'anno 2023. Prendiamo il totale qui, quindi 143 miliardi. Il numero delle passività correnti, quindi 145 miliardi. Ora che cosa faremo? Andremo a dividere gli attivi correnti diviso i passivi correnti. Il numero che dobbiamo ottenere deve essere il più possibile maggiore di 1. Apriamo la calcolatrice e allora facciamo 143 diviso 145. Il numero è 0.98. Quindi a noi ci viene 0,98. Questo non è un buon numero. Quindi in questo caso Apple, vista da questo punto di vista, non è il massimo. Che cosa ci sta dicendo questo numero? Ci sta dicendo che per ogni euro di debito l'azienda ha 0,98 centesimi di attivo potenziale. Questo nel breve termine. E questo non è un buon segno. Noi cerchiamo delle aziende che abbiano più di 1 come rapporto. Perché? Perché se l'azienda dovesse avere dei problemi, dovesse ripagare velocemente i debiti, si ritroverebbero comunque a non riuscire a saldare in toto il debito. Azioni per esempio come Coca Cola hanno un rapporto 1.3. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni euro di debito hanno 1,30 euro di attivo. Possono tranquillamente ripagare i debiti e avere anche dell'eccedenza. Questo è un buon segno quando andiamo a guardare un bilancio di un'azienda. Ma il lavoro ovviamente non finisce qua. Infatti ora passiamo al nostro step 3. Analizza la loro storia. Quando trovi una ragazza, un ragazzo con cui uscire, probabilmente sarà interessato sul suo trascorso. Magari sarai curioso delle relazioni precedenti. Quante ragazze o quanti ragazzi ha avuto. Giusto per fare un check sul suo background, no? Bene, la stessa cosa è da fare quando cerchi un'azienda su cui investire. Prima di metterci i soldi sopra, infatti, tu vuoi conoscere il suo track record. Vuoi capire chi è. Vuoi capire chi è stato. Ed è proprio qui che entra in gioco il conto economico. E a differenza delle persone che possono mentire sul proprio passato, sulle aziende questo non è possibile farlo. Quindi lo storico, il track record di un'azienda, è un elemento sicuramente molto importante da tenere in considerazione. Andiamo quindi ad aprire il nostro conto economico. Eccolo qua. Vicino, come puoi vedere, al bilancio c'è il conto economico. Clicchiamolo, che era la prima schermata che abbiamo visto appena abbiamo cercato l'azienda. Questa schermata sembra ancora più incasinata di quella di prima. In effetti è ancora più incasinata, però ci sono giusto una manciata di voci che in realtà a noi interessano. Che cosa mostra il conto economico? Molto semplicemente mostra come è andata l'azienda in un determinato periodo selezionato. Ancora una volta, mensile, annuale, quadrimestrale e così via. Detto semplice, ti dice quanti soldi l'azienda fa e quanti soldi l'azienda spende. Torniamo al nostro grafico. All'inizio la prima voce che vediamo importante è totale ricavi. Cioè quanto l'azienda ha preso in un determinato lasso di tempo. Come vediamo qui, nel 2023 questa era la quota, nel 2022 questa, nel 2021 questa, nel 2020 questo. Questo è il totale di soldi che sono entrati all'azienda in ciascun periodo. Il TTM che cos'è? Sono gli ultimi 12 mesi. Quindi se noi ora siamo a luglio, nel momento in cui sto registrando questo video, tiene in considerazione un periodo che va da luglio del 2023 dell'anno scorso fino a luglio del 2024, cioè adesso. Io comunque generalmente sì, do un'occhiata anche agli ultimi 12 mesi, ma tengo conto in particolare di tutti gli altri anni precedenti. In questo caso prendiamo ancora una volta il 2023. Nel 2023 il ricavo totale è stato di 383 miliardi. Scorrendo un pochino in basso, troveremo un'altra voce interessante, cioè l'utile netto. I soldi che rimangono all'azienda al netto di tutti i costi. In questo caso sono 96 miliardi. Quindi a fronte di 383 miliardi di totale fatturato, 96 rimangono come utile netto. Ma che significa quindi tutto questo? Devi sapere che ogni azienda ha due tipi di costi. Il costo del venduto e il costo di gestione operativa. Nel costo del venduto confluiscono tutti i soldi necessari per poter creare un determinato prodotto. Nel caso per esempio di Apple, per creare il suo smartphone, nel costo del venduto arrivano tutte le materie prime necessarie per costruirlo. Senza quelle materie prime è impossibile costruire quel telefono. Di conseguenza il costo del venduto è un costo estremamente importante da cui dipende l'esistenza stessa dell'azienda. Ed è un costo relativamente fisso, importante da tenere in considerazione. Abbiamo poi il costo di gestione operativa. Quindi magari il costo del marketing, o il costo dello staff, o delle strutture in cui assembli i tuoi telefoni in questo caso. Questo è un costo appunto di gestione. Un costo che è importante, sì, ma è meno importante rispetto il costo di creazione del prodotto. Quindi il costo del venduto. Perché è vero, puoi licenziare persone e comunque riuscire ancora a costruire il tuo telefono. Puoi chiudere fabbriche e comunque continuare a costruire il tuo telefono. Puoi ridurre i soldi che dedichi al marketing continuando comunque a costruire e vendere il tuo telefono. Quindi rispetto al costo del venduto è un costo un pochino secondario, ma comunque fondamentale da analizzare. Questi due costi insieme gravano ovviamente su quello che è il fatturato. E su Yahoo Finance li trovi esattamente qua. In costo del venduto. In questo caso a noi interessa questo del 2023. E poi qui spese e gestione operativa. Eccolo qua. Altra cosa che ci interessa. Questi sono i due costi di cui abbiamo parlato adesso. Se tu prendi questi due costi e li vai a sottrarre al totale dei ricavi, ottieni che cosa? Ottieni l'utile o perdita d'esercizio. Questo ci aiuta a capire quanto utile rimane effettivamente all'azienda prima di essere tassato. Nell'utile netto invece abbiamo già il valore post tassazione. E quindi capiamo effettivamente se l'azienda sta andando bene o male. A questo punto vogliamo capire però quanto è profittevole quell'azienda. Per capire la profittabilità di un'azienda dobbiamo fare che cosa? Dobbiamo prendere l'utile o perdita di esercizio e dividerlo per il totale dei ricavi. Il risultato è moltiplicarlo per cento. In questo modo sappiamo quale percentuale abbiamo di profitto rispetto al totale dei ricavi. In questo caso prendiamo quindi centoquattordici miliardi e lo dividiamo per trecentoottantatré miliardi. Il risultato facciamo un per cento. Calcolatrice centoquattordici diviso trecentoottantatré per cento. Il risultato è quindi il ventinove per cento. Questo è un ottimo risultato. Ora quindi sappiamo che il business di Apple è profittevole e soprattutto sappiamo in che misura lo è. Ricordati che tendenzialmente le aziende più datate hanno una profittabilità maggiore rispetto le aziende nuove perché le aziende nuove spendono molto di più in marketing per farsi conoscere, hanno una competizione diversa. Quindi gli utili che genera un'azienda che è già attiva da più tempo sono tendenzialmente maggiori rispetto quelli che genera un'azienda nuova. Questo è giusto per avere un'idea. Un risultato comunque quando analizzi buono è avere una profittabilità intorno al 10%. Se la profittabilità è del 5% o minore l'azienda non è interessante e è estremamente rischiosa. Se la profittabilità è intorno al 10% e nella norma ci sta. Se la profittabilità è superiore al 20% è un business molto interessante. Anche se la profittabilità è molto importante ovviamente non è l'unica cosa che conta. Anche perché un'azienda che ha fatto molto bene nel passato non significa che farà ancora bene nel futuro. E quindi le performance del passato non garantiscono risultati futuri. Ecco perché andiamo ad analizzare lo step 4. Analizza il loro portafoglio. Investire soldi in aziende che non sanno gestirli è estremamente rischioso. Insomma tu non daresti soldi a qualcuno che li sperpera a caso no. La stessa cosa funziona con le aziende. Ecco perché devi imparare ad analizzare una terza voce. Il flusso di cassa. Che cosa mostra il flusso di cassa? Mostra sostanzialmente i soldi che entrano e i soldi che escono. E si divide principalmente in tre parti. Il flusso di cassa da attività operative. Il flusso di cassa da attività di investimento. E il flusso di cassa da attività finanziarie. Lo so che sembra ancora più incasinata la cosa. Però come sempre ora ti mostro in modo pratico cosa sono e come leggerli. Andiamo dunque a vederli qua su Yahoo Finance. Clicco flusso di cassa. Andiamo a chiudere tutte le freccioline. Questi sono i tre flussi che interessano a me. Il flusso di cassa da attività operative. Il flusso di cassa da attività di investimento. E il flusso di cassa da attività finanziarie. Quello da attività operative. Prendiamo sempre il 2023. Indica quanti soldi stanno entrando dall'attività principale dell'azienda. In questo caso la produzione di telefoni, computer, apparecchi tecnologici. Quello che cerchiamo qui è semplicemente un numero positivo. Questo numero è molto simile come vedi all'utile. Infatti qui converge proprio l'utile. I flussi di cassa invece da attività di investimento. Mostrano i soldi che sono stati investiti per fare per esempio migliorie. Come comprare nuovi stabilimenti, oppure azioni di marketing, oppure l'acquisto di nuovo equipaggiamento. Qua dentro avrai quindi sia i soldi in uscita, quindi per acquistare questo tipo di investimenti, sia in entrata. Quindi che arrivano dalla vendita di questo tipo di investimenti. Io ho comprato per esempio un edificio nel 2022. Questo edificio mi genera sul mio bilancio un negativo perché c'è stata un'uscita di cassa, un'uscita di soldi verso l'acquisto di questo edificio. Nel 2023 però l'ho venduto e quindi vedo un flusso di cassa in positivo perché ho ripreso i soldi vendendo quell'edificio. Quindi le attività di investimento confluiscono tutte queste voci insieme. Ergo puoi trovarli a volte in positivo se sono stati venduti tanti dei propri asset o se non è stato comprato nulla. Viceversa li puoi trovare in negativo se l'azienda si è esposta per investire appunto in strutture e così via. Quindi se vedi questa voce in negativo non ti preoccupare. Ciò che interessa a noi è quanto è in negativo. Se fosse lievemente in negativo ci sta vuol dire che l'azienda sta investendo sulla propria crescita e questo è importante. Ma se fosse tanto in negativo rispetto al flusso di cassa che arrivava da attività operative quindi alla loro vendita banalmente hanno investito più soldi di quelli che sono entrati. E allora questo non è proprio un buon segno bisogna fare molta attenzione in questo caso a esporsi. In questo caso vediamo su Apple siamo a 3 miliardi quindi su 110 miliardi 3 miliardi sono il flusso di cassa in questo caso in positivo. Quindi sono entrati dei soldi da questo flusso di cassa. Andandola ad aprire vediamo gli investimenti nel patrimonio immobiliare vediamo gli acquisti di investimenti e vediamo le vendite di investimenti. Hanno venduto parecchia roba e questo gli ha portato della liquidità. Quindi anche qui bisogna analizzare il perché abbiano venduto determinate cose e come funziona. Vediamo gli anni precedenti gli investimenti sono stati molto spinti. Qui erano in negativo di 4 miliardi qua di 14 miliardi qua addirittura di 22 miliardi. Quindi probabilmente gli investimenti fatti qua ora è comprensibile che abbiano maturato qualcosa e quindi è assolutamente interessante. Va bene da questo punto di vista per me può essere sana la cosa. Andiamo all'ultimo punto quindi il flusso di cassa da attività finanziarie. Qua dentro confluiscono che cosa? Confluiscono tutti i prestiti e anche i titoli azionari. Ricorda che nel momento in cui tu stai acquistando le azioni di un'azienda i soldi che tu dai all'azienda sono soldi che l'azienda utilizzerà. E nel momento in cui quell'azienda ti va a pagare dei dividendi sono soldi che usciranno dall'azienda per rientrare nelle tasche dei soci e saranno quindi contabilizzati all'interno dei flussi di cassa da attività finanziarie. Quindi nell'attività finanziarie ci sono i soldi presi in prestito, i prestiti ripagati e i dividendi pagati agli azionisti. E' importantissimo per te vedere bene come gestiscono questa parte per capire effettivamente come stanno spendendo i soldi. Se per esempio pagano tanto gli azionisti, hanno tanti debiti ma poche entrate, questo è un cattivo segno. Vuol dire che probabilmente stanno pagando gli azionisti con i soldi presi in prestito probabilmente. Nel caso per esempio qua di Apple abbiamo 108 miliardi pagati su 110 di entrate, quindi ci sta. Quindi vuol dire che siamo in positivo, il problema è quando questa cifra è più alta rispetto a questa cifra. Passiamo ora al quinto step, il cross check. Quando trovi qualcuno di interessante online che magari sembra bellissimo o bellissima, poi magari delle volte ti incontri e vedi che in realtà non è proprio bello o non è proprio come appariva in chat o sulle foto del profilo. Quindi non è il massimo. E questa cosa succede anche con le azioni. Un'azienda potrebbe quindi essere un ottimo investimento su carta vedendo i dati, però ci sono degli elementi non di tipo quantitativo ma di tipo qualitativo che vanno tenuti in considerazione. Questo tipo di analisi quindi non si focalizza sui numeri bilanci aziendali come abbiamo visto adesso, ma si focalizza piuttosto sulla qualità dell'azienda. Quindi per esempio quanto i clienti sono fidelizzati e felici di acquistare da quella determinata azienda. Queste risorse sono estremamente importanti ma anche difficili da trovare, però con qualche accortezza riusciamo a cavarcela. In particolare sono tre gli elementi che dovrai tenere in considerazione. Il primo elemento è quanto è riconoscibile il brand. Se adesso tu uscissi di casa e prendessi dieci persone a caso e gli facessi questa domanda dimmi cosa ne pensi di Apple? Molto probabilmente riceveresti dieci risposte. E questo è già un buon segno, vuol dire che su queste dieci persone tutte e dieci sanno che cos'è Apple. Quindi il brand è estremamente riconoscibile. A questo punto, secondo step, tu vuoi capire che cosa ti risponderanno. Quindi se il feedback che ti danno è positivo o negativo. E probabilmente riceverai risposte del tipo produce dei telefoni interessanti o è attento alla privacy, è un qualcosa di lusso, comunque tendenzialmente dei feedback positivi. Questo ci permette di comprendere che quell'azienda non solo ha un brand facilmente riconoscibile, ma anche un brand che nel tempo ha acquisito una connotazione positiva nella mente del cliente potenziale o del cliente già effettivo. Una cosa interessante potresti fare anche a queste dieci persone, o cento dipende quante ne interroghi, chiedere quante di queste hanno un iPhone. Quindi ancora una volta, ottieni un'altra informazione interessante. E potresti anche chiedere da quanto tempo hanno un iPhone o un prodotto Apple. Se per esempio invece parallelamente fermassi dieci persone e chiedessi cosa ne pensano di Xiaomi, molto probabilmente ti guarderebbero in faccia dicendo non lo so, alcuni sanno che cos'è, altri non sanno che cos'è. Che cos'è Xiaomi? È sostanzialmente un altro produttore molto importante, ma sul mercato cinese, in fortissima crescita, però non ha una riconoscibilità in Occidente così forte come può averla Apple. Questo non vuol dire che non bisogna investire su Xiaomi rispetto che Apple. Vuol dire che quel tipo di brand, nonostante su carta sia molto interessante e abbia una prospettiva futura di crescita importante, ancora non è riconoscibile come Apple. Può diventarlo in futuro, quindi potrebbe essere interessante posizionarsi. Quindi ancora una volta, vedi, devi valutare in base a come ti muovi. Una buona regola potrebbe essere, in questo caso, proprio quella della diversificazione, cioè una cosa non esclude l'altra. Le aziende con una forte riconoscibilità del brand sono anche quelle che hanno costruito nel tempo più fiducia. più fiducia nei consumatori e più fiducia anche negli investitori. Un investitore sarà molto più fiducioso nell'andare su Apple piuttosto che su Xiaomi, perché è un brand già riconosciuto, è un brand già grosso, è un brand del tipo troppo grande per fallire, anche se poi non è vero, ed è quindi un brand che ci permette di ridurre rischi e contemporaneamente esporci su potenziali ritorni interessanti. E ha quello che viene definito, per esempio, da Monish Pabrai, il fosso. E vedremo tra poco che cos'è sto fosso. Passiamo al secondo punto, la leadership. Vogliamo delle aziende che siano guidate da professionisti. Se questi leader sono leader motivati, sono leader forti, sono leader che hanno un'influenza, sono leader che sono all'interno di un'azienda da più anni, aumentano ovviamente le probabilità che abbiano acquisito più informazioni importanti e che sul lungo termine quell'azienda sia potenzialmente più propensa a crescere rispetto che a morire e decrescere. A punto importante, facciamo attenzione ai leader carismatici o molto attivi sui social. Perché se io prendo Tesla con Elon Musk, Elon Musk incarna la visione del leader, appunto visionario, come poteva essere Steve Jobs all'epoca per Apple. Ma, nel caso di oggi, con i social e tutto quello che ruota intorno al personaggio di Elon, basta un suo tweet per far schizzare o crollare le azioni. Quindi è pericoloso comunque esporsi in quest'ottica. Bisogna fare estremamente attenzione. Altri leader, magari silenziosi, come può essere il CEO di Coca-Cola, che la maggior parte neanche sa chi sia, e comunque nell'ombra, in silenzio, continuano a costruire e continuano a portare valore. Quindi valuta anche molto attentamente questa parte qui. Ti accorgi di una leadership forte leggendo le lettere agli investitori di anno per anno, capendo quali sono stati i traguardi raggiunti, quali obiettivi ci si è prefissati e quanti di questi obiettivi sono effettivamente stati portati a termine. Più obiettivi sono stati portati a termine, più la leadership è forte e in grado di guidare un'azienda. E arriviamo al nostro terzo e ultimo punto, che è quello del vantaggio competitivo. Il famoso fosso. Il fosso ricorda quello che è il fossato, intorno ai castelli medievali, quelli dove c'è il ponte elevatoio, i coccodrilli, quella roba lì. Perché? Perché è quello che protegge la mia azienda rispetto ai competitor. Se la mia azienda ha un vantaggio competitivo importante, come può essere la formula segreta di Coca-Cola? Come può essere la riconoscibilità forte e la fan base forte di Apple? I clienti Apple si mettono in coda e stanno giorni e settimane in coda ad aspettare il lancio del nuovo telefono, del nuovo computer. Quindi stiamo parlando di una fan base forte che difficilmente può essere scalzata da altri brand. A meno che non succedano degli eventi particolari. Quindi stiamo parlando di un vantaggio competitivo molto importante. Noi dobbiamo cercare aziende che abbiano anche un vantaggio competitivo forte rispetto ai competitor. Che non vuol dire che Coca-Cola ha il suo vantaggio competitivo. Se io voglio comprare altre bevande gassate stile la Coca del discount, io non possa farlo. Però nel momento in cui c'è il cenone per esempio di Natale e ci sono i parenti, io non mi metterò a tavola la Coca scadente del discount. Li metterò Coca-Cola. Perché ho un'immagine diversa utilizzando Coca-Cola piuttosto che la Coca scadente del discount. Quindi stiamo parlando di questi aspetti che sono ugualmente importanti da considerare subito dopo che abbiamo analizzato il bilancio finanziario. Quindi una volta capito il bilancio, il conto economico e il flusso di cassa di un'azienda e quell'azienda che abbiamo scelto soddisfa tutti questi punti, analizziamo da un punto di vista qualitativo l'azienda. Esempio, magari siamo suoi clienti, siamo clienti abituali e quindi ci troviamo in un certo modo, vedono che ci trattano in un certo modo. Questo può essere un ottimo sintomo per analizzare, un ottimo punto di partenza per analizzare quell'azienda e per potenzialmente investirci. Certo, ci vorrà un po' di tempo a fare tutte queste ricerche, ma ricordati che la ricerca è il tuo migliore amico quando investi. Non c'è nulla di più importante. È molto meglio dedicare il tempo a ricercare, quindi a studiare la tua prossima mossa, piuttosto che buttarti a capofitto e poi compra-vendi, compra-vendi a caso. Sesto e ultimo step, spegni le notizie inutili. Smetti di seguire centinaia di analisti o centinaia di youtuber che ti dicono di continuo e ora compra, e ora vendi, e ora compra questo, e ora vendi l'altro. No. Ti serve conoscere i fondamenti. Una volta che tu hai fondamenti, vai e posizionati su quella azienda, azione su cui hai deciso di posizionarti. Fine. Se hai scelto di fare una partnership, non è che starei a sentire, così come quando trovi una fidanzata, tutti i commenti negativi dell'amico, dell'amica, del cugino, del fratello. Non te ne frega più niente. Tu l'hai scelta. E quindi continua a starci. E a meno che non succede qualcosa di particolare, cioè quell'azienda per esempio tradisce la tua fiducia, la ragazza ti tradisce, il ragazzo ti tradisce, allora quello è un evento particolare e ti fa fare un passo indietro. È normale che in una relazione ci siano alte e basse, è normale che in una relazione i prezzi scendano e i prezzi salgano. Quello che ti interessa però è aver fatto un lavoro a monte sensato che ti abbia permesso di scegliere un titolo su cui realmente posizionarti, un business che tu sposi, che vuoi acquistare e detenere long term. A questo punto sorge la domanda, ma quando devo vendere? E questo è strettamente correlato alle news. Infatti se stai con le news attive, molto probabilmente venderai in momenti in cui non avresti dovuto vendere e comprerai in momenti in cui non avresti dovuto comprare. Perché tendenzialmente sono tutti in fomo, sono tutti vai, acquista, acquista quando i prezzi stanno salendo. E poi sono tutti in panico quando i prezzi stanno scendendo. Quando dovresti vendere tu? Non dovresti vendere ascoltando il mercato, ma sei tu che devi decidere quando vendere sul mercato. Quindi deve partire da te. Perché se io vendo perché ho sentito una notizia, vuol dire che io sto dando peso al mercato, sto ascoltando il mercato che viene a casa e mi dice devi vendere. E io vendo. Io quando è che devo vendere? Ci sono diversi fattori. Per esempio quando sono soddisfatto perché ho fatto un x per cento, non me ne frega se sale ancora. Io sono soddisfatto di quello che ho fatto e quindi vendo. Oppure potrei vendere quando non credo più nell'azienda. Quindi un evento positivo sto vendendo perché ho fatto il profitto, un evento negativo vendo perché quell'azienda ho scoperto che adesso hanno deciso di iniziare a investire in armi. E a me non piace e quindi voglio venderla. Non condivido più il mio percorso insieme a quell'azienda. Oppure vendo perché ho bisogno di liquidità immediata perché devo far fronte a una spesa. Quindi ci sono mille motivazioni per vendere ma ecco l'importante è che parta da una scelta nostra ma non da una scelta che ci arriva perché abbiamo sentito la notizia. Perché tante volte le notizie, ma anche le notizie ufficiali, ti basta aprire un qualsiasi gazzettino di investimento, scorri e vedrai che c'è o compra o le big tech faranno un 100 per o no stanno cadendo o no qui o no lì. Sono tutte informazioni costruite per farti agire perché se tu agisci, compri o vendi, il broker guadagna. Il broker guadagna nel momento in cui tu compri e vendi. Non se tu compri e tieni lì per 10 anni. Una volta che compri, si prende la percentuale sul comprato ma poi per 10 anni non guadagna più. Guadagna da chi? Da chi come un pazzo compra, vende durante il giorno e fa tutte queste operazioni qui. Quindi tu non vuoi essere questa categoria, tu vuoi essere un cecchino, un detective che analizzi, studi e ti posizioni. Ora hai veramente tutti gli strumenti necessari per iniziare a muoverti nel mondo degli investimenti in azioni, imparare ad analizzare da un punto di vista quantitativo e qualitativo un'azienda e fare le tue personali ricerche in totale autonomia. Se vuoi altri contenuti di questo tipo o hai delle domande particolari, scrivimelo qua sotto nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, clicca l'icconcina che vedi qua, iscriviti al canale per poterti iscrivere al canale e ottenere quindi notifiche ogni volta che pubblico un video proprio come questo. Ti ringrazio per essere stato qui con me, buon investimento e ci vediamo nel prossimo video. Grazie. 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 Grazie.